Ciao ragazzi eccoci qua in questo nuovo episodio su minecraft Oggi faremo un'altra sopravvivenza Questo è un piccolo, ma che piccolo Riassunto di 3 minuti Pure troppi per me Ok Vabbè, godetelo E poi passiamo al video originale di oggi E ora aspettiamo la notte Bene, iniziamo subito Non perdiamo tempo Facciamo la nostra prima film Via via E uno Ma perché esplode? Ma perché? Non l'ho toccato Esplode, esplode Ok Ok Posso vedere lo streco Perfetto No Perfetto Perfetto che poi è difficile poi Allora, ho fatto un zombie Non ci manca solo un zombie piccolo Oh, cavolo Oh, cavolo E va Ora vedrete il risultato precisamente qua Ecco, come vi ho detto, abbiamo perso Sono morto una volta, però, i Dekin non erano tanti Ciao ragazzi, sono io, è Claudio 0-1-Pest Oggi volete che iniziamo un nuovo video? Fantastico! Ok Iniziamo subito Ciao ragazzi, eccoci qua Oggi costruiremo su Minecraft Il portale del Nether Semplice, sì Una maniera semplice Senza col piccone di diamante Senza col queste robacce del genere Ma ci serve molta, moltissima lava Dove siamo finiti? Ok Andiamo a mangiare qualcosa Altrimenti moro Allora Ok, andiamo Il portale dove lo facciamo Un po' di confusione Tipo, per esempio Tipo, per esempio Qua 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 penso che il posto adatto Ben, iniziamo subito Prendiamo la lava Facciamo così ?!?! Un po' di confusione Bene Un po' di confusione Un po' di confusione Un po' di confusione Qua measurements , la , la , la No, ecco cosa può succedere. Mannaggia la pioggia. Perché proprio oggi doveva piove. Perché proprio oggi doveva piove. E qui ci siamo. Una volta fatto questo. Dobbiamo ancora. Mettere questo. Così. E poi metterla qua. E poi metterla qua. Sì. Detta da ossidiana. Ora l'acqua la riprendiamo. Ora qui il procedimento è molto facile. Lo tengo qua. Così. L'acqua. E poi l'acqua. E poi l'acqua. Poi dobbiamo fare la stessa cosa. E poi dobbiamo fare la stessa cosa. L'acqua. 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 Poi. Dobbiamo prendere la lava. La sua polona. Oscrimciare. Espromosiare. Laboscoliare. E poi. Espromosiare. L'acqua. non mi serve ecco la scaletta però, aspettami faccio la serra perchè non utilizzo nella serra lo so, è disgustosa però non tocca farlo allora per rigenerare un po' di cuori perfetto, qua ci siamo prendiamo la lava la nostra cara lava per fortuna che ce l'abbiamo qui tutto sto ripeto, queste sono le basi non le accendiamo il portale perchè ancora non siamo pronti non abbiamo abbastanza materiali per andarci dentro lava qua e lava qua e lava qua tac tac e ecco qua perfetto dove la mano aspetta il portale dovrebbe essere si ora lo dobbiamo chiudere forse penso di si qui stacchiamo qui stacchiamo questo visto che il portale poi 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 così qua così poi qua stacchiamo l'acqua l'acqua qua c'era un buco dovevamo stare attenti tappiamo altrimenti esce di fuori poi un casino facciamo così due poi l'acqua qua ecco ho fatto una cavolata estrema scusatemi il nostro portale dovrebbe essere finito vediamo si aspetta e spera guardate sta prendendo forma ed ecco il nostro portale questo è un po' barato però perché l'ossidiana dovresti prendere un diamante e poi posizionarlo però è un quadrato oh mio dio ho sbagliato è un quadrato scusate del mio errore clamoroso proprio clamoroso rifacciamo tutto da capo è qui però ci mettiamo le ore a spaccare quanto sono stato stupido 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.